E con il numero uno fa l'ingresso direttamente in mezzo ai pali Nicolás, Ceppi, sull'esterno a destra, basso, Stefano, Martinelli Il centrale difensivo con più esperienza qui al Gradio Cup Daniele, Gianmaria, sull'alto sinistro Con il numero tre, Manuel, Macini, il cuore di questo Cesena E con il numero quattro, Emiliano, Coco Il numero undici, Emanuele, De Santis Una spina nel fianco nelle difese avversarie Il numero sette, Valerio, Siliato Ed ecco arrivati al bomber Il numero nove, Davide Coggi A disposizione il numero dieci, uno dei più talentuosi di questo Gradio Cup Andrea Turcharelli E con il numero uno Callaro Il centrale difensivo con maggior classe Il numero cinque, Daniele, De Giovanni A sinistra, il numero tre Federico, Paoletti Il numero due, Daniele, Bianchi Per un direttore d'orchestra in questo Corinthians Il numero sei, Alessio, Pazzana E con il numero undici, tanta quantità ma anche qualità Per Francesco Martinelli Daniele, Rizzetto Un altro bomber Che ha portato alla finale in questo Corinthians Tanta qualità Daniele, DJ Il numero nove Il bomber di questa squadra Diego Di Mauro Arbido della cara Giovanni Rosati lobbying Go Go Grazie. 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 Bravo Vidi. Bravo Vidi. Il campo è di un po' basso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.